Sono le 4 e 45 Ma non è che me ne ha fastidio, è fatta notte No, sono le 5 e un quarto, Rosa E Rosa Non sono le 5 e un quarto, che cazzo dici? Sì, sono le 5 e un quarto Ma dove sono le 3 e 49? Invece sono le 4 e 49 e io ho trovato Rosa a mangiare qua fuori Ragazzi, questo cioccolato, questa torta è buonissima È una torta di formato Formato E Nutella Buonissima Sì 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 Sì, da perché me ne hai fastidio? Senti, andiamo a raccontare Della tua caduta, amico Non stavo Mi hai preso qua, grazie Un altro biscotto mi piace tanto Allora Non sono caduto No, è salita su un gratino e poi ti inviola di scendere Perché? Perché però non lo dici, buggero Parla a lui che ti inviola le parole Parla a lui che non abbiamo una foto pure Perché nelle foto Nelle foto Infa la mano monca Cioè lo si mette ancora così Lo si mette così Lo si mette, vuole mettere la mano in tacca E quindi nella foto viene con questa mano Beh, è un cuppotillo Un cuppotillo Ah non è un cuppotillo No, 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 no